Due mesi fa erano stati sfrattati dalle suore proprietari dell'edificio ex scuola Belvedere al Vomero, occupato abusivamente, invocando poi l'aiuto del Cardinale Sepe per trovare una nuova sistemazione abitativa. Sono ancora senza un tetto però e questa mattina le 20 famiglie di sfrattati hanno occupato la sede del Consiglio Comunale di Napoli. Gruppi familiari con bambini, alcune decine di persone con materassi e suppellettili hanno fatto irruzione nell'edificio di Via Verdi occupando la sala consigliare in segno di protesta. I manifestanti hanno chiesto un incontro con il sindaco Luigi De Magistris. Vogliamo fatti e non più parole urlavano dal balcone dell'edificio. Alla protesta degli sfrattati dell'ex scuola Belvedere si sono uniti anche alcuni attivisti dei centri sociali, da tempo impegnati nella lotta per il diritto alla casa e i disoccupati storici della lista Banchi Nuovi.